Sul dettaglio delle motivazioni per cui la procura ha richiesto l'archiviazione ci sono diversi elementi da valutare. Tra i tanti, possiamo citare, viene trovato materiale genetico sotto alcune dita di Viviana. Beh, questo è abbastanza normale che lì si trovi il materiale genetico di Joelle, in quanto è il figlio, in quanto la madre ha sempre contatti con lui. Un altro punto importante. Si fa sempre riferimento a Viviana una volta ha raggiunto il bosco, ma non si dice mai, nemmeno qui, come ha raggiunto questo bosco. Lo ha raggiunto camminando 100 metri il lato Palermo? No, perché avrebbe dovuto essere vista da almeno 20-30 macchine in transito, perché ci sono 200 metri da percorrere al bordo dell'autostrada. Scala la collina? Impossibile, perché se scalasse la collina, a parte che è impossibile farlo col bambino, lo ripeto ancora una volta, sarebbe vista. Io tutte le volte che sono andato nel bosco, tranne la prima, ma poi ho scoperto che inizialmente lì non c'era più anima viva, perché era la classica quiete dopo la tempesta. Dicevo, ogni volta che sono andato lì, ho sempre visto molta gente. Ricordiamo quel giorno, oltre alle persone che lavoravano abitudinariamente in quella zona, c'erano 12 cercatori di sughero. Lei avrebbe dovuto scalare la collina, introdursi nella proprietà dove stavano i maialini neri, che è visibile da chiunque transiti sotto in autostrada dalla corsia che porta da Palermo a Messina. Dopodiché, in presenza del famoso cancello, obbligatorio passo da superare per immettersi nel sentiero, avrebbe dovuto capire come scavalcare restando fermo. Io stesso ci misi due minuti ed essendo più alto di lei riuscì a scavalcare. Lì avrebbe dovuto essere nuovamente notata da almeno qualcuno. Dobbiamo stimare, quel giorno, almeno una ventina di persone che si aggiravano in quei campi. Altra fase molto discutibile, Viviana avrebbe ucciso il figlio, quindi scendendo verso il casello, e poi sarebbe risalita per andare verso il traliccio. Tutto questo avverrebbe a 50 metri dall'autostrada. Sono già passati almeno 30-40 minuti, probabilmente, dall'incidente, perché seppure Viviana facesse questa incredibile impresa di uscire, sicuramente il tempo ci vorrebbe. Com'è possibile che a questo punto, con tutta la gente che si è ammassata nei pressi del casello, nessuno la veda transitare lì a fianco? Perché ricordiamo che le masserie sono visibili dal posteggio dell'autostrada, quello vicino al casello. Quindi Viviana mette in alto tutta questa serie di movimenti senza essere vista. In seguito iniziano anche le ricerche, almeno ci auguriamo che siano iniziate, visto che la famiglia Mondello fu bloccata a Sant'Agata. Viviana aggirebbe a 50 metri dall'autostrada, mai vista da nessuno nel giorno della sua sparizione, quando è normale che la si cerchi. Un altro ragionamento da fare, in seguito a questa relazione, è che se voi avete subito un TSO, dovete stare attenti, perché se qualcuno vi ucciderà, da questo momento, non sarà mai omicidio, ma sarà un suicidio. Perché uno che subisce un TSO, automaticamente si suiciderà. Lei non partirebbe, pur essendo pazza, come dichiarano per Sant'Agata, con l'intento di uccidersi. Quindi il motivo per cui parte per Sant'Agata resta un mistero, ma non crediamo assolutamente al discorso della piramide. In un quadro del genere, quantomeno risulta poco credibile. E dopo tutte le stranezze di quel giorno, a Sant'Agata, dopo aver mantenuto un tempo compatibile con la mia ricostruzione per tutto il giro del paese, improvvisamente nella tratta più semplice, cioè un rettilineo che separa il rifornimento dal casello, ci mette 8 minuti di più. Cosa starà facendo? Forse già sta aspettando il furgone per andare a fare l'incidente? O sta già pianificando il suo suicidio? No, perché secondo la procura, tutto ciò scaturisce dopo questo incidente. Allora dovremmo pensare che lei, nel momento di pazzia, visto che a Sant'Agata non ha trovato come uccidersi, decida di investire volontariamente il furgone, tentando così di cappottare e morire. E invece no, non ha nemmeno questa fortuna. Allora, spaventata dal fatto che le possa essere tolto il figlio o che possa essere seguita da qualcuno, soprattutto questa macchina nera che lei è convinta sia sulle sue tracce, e poiché poi viene uccisa potrebbe anche essere questa la verità, cosa fa? Per paura di morire si mette in una situazione che la porta a morire volontariamente. Anche questa è una cosa che non sembra avere alcun senso. Io, se lei potesse giungere nel bosco, posso anche credere al suicidio, perché se una giunge nel bosco, a questo punto può fare qualsiasi cosa, ha fatto un'impresa eroica, vuol dire che ha una testa diversa dagli altri e si può anche uccidere. Ma non è assolutamente credibile questo scenario, l'unica ipotesi che potrebbe ancora essere fatta è proprio che tenti di scappare perché qualcuno veramente vuole farle qualcosa e poiché, come ho sempre detto, è impossibile scalare quella collina con un cellulare in mano, figuriamoci con un bambino, nel tentativo di farlo, il bambino vola giù nel fossato o comunque le precipita, in qualche modo, via dalle mani. Il bambino così potrebbe essere deceduto. A questo punto lei da sola potrebbe aver fatto altro. Se il bambino fosse caduto nel fossato, lei uscendo per riprenderlo si troverebbe a questo punto nel bosco perché, ripeto, una persona sola potrebbe anche riuscirci. Col bambino no. Se il bambino cade nel fossato, lei esce dal bosco e lo riprende. Il fossato sbuca proprio al lato casello, lo lascerebbe lì nei pressi del posto dove poi viene trovato anche se lì transita il proletario che non vede nulla, stranamente. Gli animali lo sposterebbero poi dove lo troverà Di Bello perché Viviana dove lo trova Di Bello non ci può essere arrivato perché quello è un punto irraggiungibile se non da Di Bello che, come sappiamo, ha esperienze particolari. Questa sarebbe l'unica spiegazione. A questo punto lei potrebbe pure essersi andata a suicidare ma voi avete mai visto una mamma col bambino appena morto che decide di suicidarsi al terzo traliccio dice questo no, questo è un po' troppo arrugginito, questo qua è un po' troppo così no, facciamo quello laggiù che ovviamente è un traliccio che lei non può nemmeno sapere che esiste perché, ripeto, è un traliccio che vi compare su un sentiero che sembra andare verso il mare cento metri prima. Anche questo è importante perché se voi non lo vedete vi sbuca questo traliccio e voi improvvisamente decidete che è l'ora del suicidio. Gioele è già distante dieci minuti di camminata con quale razionalità la madre si sta allontanando così tanto perché il gesto di solito impulsivo è correlato nel tempo in un tempo molto stretto al fatto precedente per cui uccide il bambino e da quel momento il suo unico scopo diventa la morte ci sono due tralicci molto vicini e lei camminerebbe per un chilometro e mezzo perché non esiste l'ipotesi che dal punto di Gioele si arrivi in 300 metri al traliccio non esiste e chiunque la pensi deve venire a vedere i luoghi i luoghi non corrispondono assolutamente ai racconti che vi fanno le televisioni che vi fanno i giornalisti quei luoghi li dovete vedere coi vostri occhi e capirete che la storia che si sta raccontando di Viviana Parisi non corrisponde alla storia vissuta da Viviana Parisi a Pizzoturda Stato di salute gli SMS col marito le analisi ecco perché per la procura Viviana si è suicidata Gioele morto il 3 agosto è possibile affermare con assoluta certezza come nella vicenda in esame non sia configurabile alcuna responsabilità dolosa o colposa diretta o indiretta a carico di soggetti terzi in relazione alle ipotesi di reato sopra specificate articoli 605 cp 575 cp 328 cp né ad altre eventuali diverse fattispecie penali nessun soggetto estraneo ha avuto un ruolo neanche marginale mediato o indiretto nella causazione degli eventi lo sostiene il procuratore della Repubblica di Patti Angelo Cavallo in una lunghissima relazione nella quale illustra dettagliatamente lo svolgimento delle indagini spiegando con dovizia di particolari le motiazioni che hanno indotto la procura patteste a chiedere al GIP l'archiviazione delle indagini tutte le indagini tecniche svolte indagini cinematiche medico-legali genetiche veterinarie eccetera hanno permesso di accertare come Viviana senza ombra di alcun dubbio si sia volontariamente lanciata dal traliccio dell'alta tensione con chiaro ed innegabile intento suicidario spiega il procuratore per quanto riguarda la morte della madre due invece le ipotesi rimaste in piedi per la morte del piccolo Joelle che secondo i riscontri degli esami specialistici è compatibile con la data della sua scomparsa ossia il 3 agosto 2020 dunque in piena coincidenza temporale con la morte della madre Viviana verificatasi come già detto in un arco temporale massimo compreso fra le ore 12,00 e le ore 20,00 dello stesso 3 agosto 2020 secondo il primo scenario Viviana una volta rifugiata assi all'interno del bosco di Pizzoturda con Joelle ha constatato come il bambino fosse deceduto e dunque convinta di avere causato con la sua condotta irrazionale tale situazione in preda a un'insopportabile angoscia si è tolta la vita un altro scenario ricostruzione però attare ugualmente possibile Viviana una volta giunta nel bosco Pizzoturda insieme a Joelle ha commesso un figlicidio di tipo psicotico altruistico ponendo fine e la stessa alla vita del figlio di seguito nel dettaglio la relazione della procura della Repubblica di Patti l'attività di indagine si è dispiegata a 360 gradi al fine di verificare ogni possibile circostanza utile a chiarire la dinamica dei fatti ed in particolare le cause che hanno determinato il decesso di madre e figlio nello svolgimento dei complessi ed articolati accertamenti sono stati impegnati molteplici uffici della Polizia di Stato squadra mobile di Messina commissariato di Post Scriptum di S Agata di Militello sezione di Polizia Stradale di Messina distattamento di Polizia Stradale di S Agata di Militello con il coinvolgimento anche di personale scientifico altamente specializzato servizi di polizia scientifica gabinetti regionali per la Sicilia orientale ed occidentale rispettivamente di Catania e Palermo sono state eseguite numerose e variegate attività di sopralluogo e di repertazione sono stati assunti a sommari e informazioni numerosissimi soggetti sono state analizzate decine e decine di tabulati telefonici sono state eseguite per una considerevole durata di tempo intercettazioni telefoniche e ambientali sempre al fine di ricostruire la dinamica dei fatti e le cause della morte di Viviana Parisi e di Mondello Gioele sono stati nominati numerosi consulenti tecnici ciascuno in relazione alla rispettiva specializzazione professionale fra cui la professor Daniela Sapienza professore associato di medicina legale dell'Università di Messina e la professor Elvira Ventura Spagnolo professoressa abbregata presso l'Istituto di Medicina Legale di Palermo il professor Stefano Vanin professore associato di zoologia entomologo forense la professor Roberta Sonna professore associato di geologia dell'Università di Messina la DSS Arita Lorenzini genetista animale in servizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana Aleandri laboratorio di diagnostica molecolare forense il dottor Rosario Fico zoologo in servizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana Aleandri il professor Massimo Picozzi psichiatra forense professore di negoziazione dei conflitti presso l'Università Bocconi di Milano il professor Sebastiano Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti Foglio NR due Battiato, professore ordinario di informatica presso l'Università di Catania gli ING Roberto della Rovere e Santi Mangano esperti in materia di infortunistica stradale l'ING Antonio Consalvi esperto informatico al termine delle complesse indagini svolte e degli articolati accertamenti per i tali gli ultimi dei quali depositati in tempi recentissimi presso questo ufficio si è potuti giungere alle seguenti conclusioni da sottoporre alla autonoma valutazione del GIP è possibile affermare, con assoluta certezza, come nella vicenda in esame non sia configurabile alcuna responsabilità dolosa o colposa, diretta o indiretta, a carico di soggetti terzi in relazione alle ipotesi di reato sopraspecificate articoli 605 CP, 575 CP, 328 CP, né ad altre eventuali, diverse fattispecie penali nessun soggetto estraneo ha avuto un ruolo, neanche marginale, mediato o indiretto, nella causazione degli eventi. L'ufficio, a prescindere dai risultati degli accertamenti tecnici, sin dal primo svolgersi delle indagini, ha inteso operare un controllo capillare su tutti i soggetti a qualunque titolo gravitanti nella zona, al fine di poter escludere in modo certo e sicuro qualunque loro coinvolgimento nella vicenda. A tale proposito sono stati identificati, controllati, assunti a SIT ed intercettati per lungo tempo tutti i raccoglitori del sughero, gli allevatori ed i soggetti comunque presenti nella zona. Le dichiarazioni di tali soggetti sono attarse lineari, coerenti, scevre da contraddizioni di sorta, riscontrandosi reciprocamente, sulla presenza in zona e sui successivi spostamenti, non facendo emergere alcun elemento di sospetto o di dubbio. E confermando la loro completa e totale estraneità ai fatti, nessuno di loro ha mai visto, né tanto meno incontrato Parisi Viviana ed il figlio Gioele. Sono stati acquisiti i relativi tabulati telefonici nel periodo temporale compreso fra i giorni 3 e 19 agosto 2020, al fine di verificare la compatibilità degli spostamenti compiuti in quel periodo con le dichiarazioni rese agli investigatori. Dal loro esame non sono emersi elementi di allarme di alcun tipo, o comunque circostanze in contrasto con quanto riferito alle forze dell'ordine. Anche le conversazioni intercettate, telefoniche ed ambientali, protrattesi per un periodo assai lungo, a partire dall'8 agosto 2020 fino a tutto il novembre 2020. Non solo non hanno fatto emergere alcun elemento di particolare allarme rispetto a quanto in precedenza dichiarato da tali soggetti, ma, al contrario, hanno dimostrato la assoluta genuinità e buona fede di tutte le loro propalazioni sui fatti. L'intera vicenda, in realtà, è ascrivibile in modo esclusivo alle circostanze di tempo e di luogo, al comportamento e dalle condotte poste in essere da Viviana Parisi e al suo precario stato di salute, presente, purtroppo non compreso sino in fondo, in primo luogo da parte dei suoi familiari più stretti. Le indagini hanno permesso di accertare in modo incontrovertibile le precarie condizioni di salute mentale di Parisi Viviana, Costei, già in data 18 marzo 2020, era stata trasportata di urgenza presso il Post Scriptum dell'ospedale di Barcellona PG, con richiesta di assistenza sanitaria obbligatoria in paziente con, riferita agitazione psicomotoria e con delirio mistico e di persecuzione, il medico del pronto soccorso intervenuto ha ricordato di aver visto Viviana sbraiata per terra, che ripeteva la frase, abbiamo consegnato i nostri figli al demonio. Circa tre mesi dopo, in data 28 giugno 2020, la donna era stata nuovamente condotta presso il pronto soccorso del Policlinico di Messina, con la seguente diagnosi, riferita in gestione volontaria di farmaci, con chiaro intento autolesivo. La donna, nell'occasione, aveva manifestato la volontà di non sottoporsi ad alcuna visita psichiatrica, che pure appariva necessaria, il certificato medico redatto dal sanitario dava atto della situazione. La paziente, resa ampiamente e dotta sui possibili rischi e complicanze, in presenza del marito, rifiuta ricovero in osservazione per eseguire monitoraggio ECG e rifiuta di attendere la consulenza psichiatrica. Gli episodi sopraindicati non sono stati casi isolati, tutti i familiari, gli amici ed i vicini di casa di Parisi Viviana hanno dichiarato come costei, nel corso del tempo, avesse dato luogo a numerosi episodi di instabilità psicologica. Adottando comportamenti singolari, la lettura della Bibbia sul balcone di casa o nel sagrato della chiesa, in pieno lockdown, nonché accusando manie di persecuzione e timori di vario genere, come quello di essere controllata da sconosciuti, anche attraverso la televisione ed il telefono cellulare, oppure ritenendo di essere pedinata da macchine di grossa cilindrata. L'esame di alcuni files audio registrati da Mondello Daniele all'insaputa della moglie attare indicativo delle condizioni psicologiche in cui la donna da tempo versava. Eloquente il file audio WhatsApp 18,55, 08, Parisi Viviana, tu o devo morire io? Chi deve morire qua? Dimmi un po', chi deve morire? Deve morire qualcuno. Devono morire i nostri genitori. Deve morire qualcuno. Perché è stato toccato qualche tasto magari troppo, troppo, troppo esplosivo, come la pentola che è esplosa. Non meno eloquente attare il contenuto del telefonino smartphone in uso alla donna, i messaggi contenuti offrono testimonianza di una donna in uno stato di evidente prostrazione psicologica, bisognosa di cure mediche urgenti. In data 8 giugno 2020 Mondello Daniele scriveva alla moglie, prendi le pillole, se ami tuo figlio, ed ancora, hai rovinato la nostra famiglia, vergognati, mi dispiace solo per mio figlio che non si meritava questo. Curati. Nella medesima data Mondello Daniele inviava il seguente screenshot alla moglie Viviana, centro di terapia strategica research training, psicoterapia institute paranoia e manie di persecuzione. L'intervento attraverso la psicoterapia breve strategica e, subito dopo, il seguente messaggio, leggi bene, non essere presuntuosa, questo è il problema che ti sono stato vicino per aiutarti, ma tu non vuoi farti aiutare e stai distruggendo la vita di nostro figlio, la tua e la mia e stai facendo soffrire la tua famiglia e la mia, per una volta ascolta chi ti vuole veramente bene. Le precarie condizioni di salute della donna, peraltro, sono state confermate dalla risultanze dell'autopsia psicologica operata dal professore Picozzi, il quale ha stabilito come Costei soffrisse di una patologia di importante valenza psicotica. Patologia dalla quale non si era mai ripresa completamente. In altre parole, la donna soffriva di un disagio preesistente da almeno due anni, con aspetti clinici tali da spingere a ipotizzare un accertamento sanitario obbligatorio per fronte alla situazione. Caratterizzati dalla presenza di spunti psicotici, con tematiche mistiche, persecutorie e di rovina, riferimenti al demonio, interpretatività delirante il diavolo nel serpente del bastone di Asclepio. Le indagini poste in essere, assunzione a SIT di testimoni, e la consulenza tecnica disposta sulla dinamica del sinistro ha consentito di accertare come la responsabilità nella causazione dell'incidente verificatosi all'interno della galleria autostradale di Pizzo Turda fosse da attribuirsi, esclusivamente. A Viviana Parisi, Costei aveva eseguito una manovra di sorpasso scorretta, non mantenendo la dovuta distanza dal veicolo che stava superando ed invadendo la sua corsia di marcia. La consulenza ha anche accertato come l'incidente, in ogni caso, non avesse provocato particolari conseguenze fisiche sugli occupanti della Opel Corsa condotta dalla donna, dato peraltro confermato da diverse deposizioni testimoniali in atti. Le indagini hanno dimostrato come Viviana, subito dopo l'incidente in galleria, una volta uscita dall'autovettura e recuperato Joelle, si sia volontariamente allontanata insieme al suo bambino dalla sede autostradale, nascondendosi tra la fitta vegetazione esistente sul bordo autostrada, non rispondendo ai richiami delle persone che pure la stavano cercando. Il consulente psichiatrico, in particolare, ha analizzato quanto successo la mattina del 3 agosto 2020, Viviana, quel giorno, si allontanava dalla propria abitazione senza lasciare segni di un progetto autolesivo, ma, in ogni caso, poco dopo, virgola l'incidente stradale ha rappresentato per Costei uno stressor acuto che ha valicato ogni capacità di elaborazione e risoluzione, tale situazione è stata causata da una interpretazione persecutoria dell'evento, come se il sinistro fosse stato causato intenzionalmente, per nuocerle, da inesistenti abbressori, oppure, in alternativa, dall'innescarsi del timore inaccettabile che il marito ne approfittasse per toglierle la potestà genitoriale, allontanandola per sempre dal suo bambino. Tutte le indagini tecniche svolte, indagini cinematiche, medico-legali, genetiche, veterinarie, ecc., hanno permesso di accertare come Viviana, senza ombra di alcun dubbio, si sia volontariamente lanciata dal traliccio dell'alta tensione, con chiaro ed innegabile intento suicidario. In particolare, la morte di Viviana Parisi è stata determinata da arresto cardiocircolatorio per shock traumatico da grave politraumatismo fratturativo vertebro midollare e toracico, derivante da una precipitazione da media altezza. Lancio volontario, pienamente compatibile con la precipitazione dal traliccio dell'alta tensione, con esclusione assoluta della presenza di lesioni intravitame post-mortem causate da animali, nonché con esclusione assoluta di lesioni o comunque segni riconducibili all'azione violenta di soggetti terzi. L'epoca della morte di Viviana deve essere collocata all'interno di un arco temporale compreso, al massimo, tra le ore 12.00 e le ore 20.00 del giorno stesso della sua scomparsa, cioè il 3 agosto 2020, dunque a ridosso e nell'immediatezza dei fatti. Il cadavere di Viviana non è stato oggetto di spostamento ad opera di terzi, così come emerso, oltre che dai risultati degli accertamenti medico-legali, anche dagli studi condotti dall'entomologo, professor Vanin, in particolare, è emerso che la decomposizione del cadavere di Viviana Parisi è avvenuta e si è svolta, per intero, nel medesimo luogo del suo ritrovamento, che, pertanto, coincide pienamente con quello del decesso. Il cadavere di Viviana, inoltre, non reca alcun segno o riscontro tipico delle morti per asfissia da annegamento in acqua stagnante, il fenomeno dei cidi, denti rosa, inoltre, è fenomeno a specifico, privo di qualsivoglia, serio fondamento scientifico. Più complessi sono risultati gli accertamenti medico-legali entomologici veterinari per stabilire la causa della morte di Joelle Mondello, alla luce dello stato di conservazione del corpo. In ogni caso sono stati raggiunti dei sicuri punti fermi. Con riferimento all'epoca del decesso del bambino, i consulenti hanno accertato come la morte del piccolo sia comunque compatibile con la data della sua scomparsa, ossia il 3 agosto 2020. Dunque in piena coincidenza temporale con la morte della madre Viviana, verificatasi, come già detto, in un arco temporale massimo compreso fra le ore 12,00 e le ore 20,00 dello stesso 3 agosto 2020. Gli accertamenti sui reperti biologici di origine animale e di tipo veterinario forense hanno permesso di rilevare, in primo luogo, come Joelle non abbia subito, mentre era ancora in vita, alcuna abgressione da parte di animale, canidi, suidi o altro tipo ancora. È stato invece accertato come la specie animale Vulpes-Vulpes abbia svolto un ruolo di necrofago, abbia cioè consumato il corpo di Joelle, ma soltanto dopo la sua morte. Gli accertamenti di genetica umana e di carattere veterinario hanno consentito di rilevare come gli indumenti indossati da Joelle al momento dei fatti, sandali, pantaloncino, slip, frammento di malletta, non ricassero tracce di sangue. Tutto ciò conferma come Joelle non possa essere stato oggetto di un'abgressione in vita da parte di cani o altri animali selvatici, dal momento che un'abgressione di tal tipo avrebbe prodotto, proprio a causa delle ferite inferte. Un'imponente perdita di sangue con conseguente di lavamento di tutti gli indumenti indossati. Le consulenze sulla dinamica del sinistro e medico-legale hanno escluso che la morte del bambino possa essere riconducibile alle conseguenze del sinistro stradale, sia per l'assenza di lesioni vitali significative al capo, sia a livello di tronco a bome. La consulenza medico-legale entomologica veterinaria, inoltre, ha consentito di escludere che Joelle possa essere deceduto in conseguenza di patologie traumatiche riportate al cranio. Di escludere che Joelle possa essere deceduto in conseguenza di lesività traumatiche ossee, fratture. Di escludere che Joelle possa essere deceduto in conseguenza di veleni o di altre sostanze tossiche. Di escludere la presenza sui resti di Joelle di lesioni o comunque segni riconducibili all'azione violenta di soggetti terzi. Di escludere alcun segno o riscontro tipico delle morti per asfissia da annegamento in acqua stagnante. La consulenza geologica botanica ha permesso di accertare come Viviana abbia raggiunto il bosco di Pizzoturda, ove poi sono stati rinvenuti i resti di Joelle. Con la conseguenza che la donna ha interagito con il bambino anche in questa località specifica, ed in modo esclusivo, i numerosissimi semi di erica arborea, vegetale esclusivamente presente in tale area bosco di Pizzoturda e dunque caratterizzante in modo specifico quel luogo, rinvenuti sulle suole delle scarpe Adidas di Viviana, consentono di ritenere con certezza come Costei sia arrivata nello stesso luogo ove poi sono stati ritrovati i resti del bambino. I sandaletti di Joelle, rinvenuti nel bosco di Pizzoturda assieme agli altri resti del bambino, si sono contravistinti per alcune indubbie peculiarità, essi erano del tutto integri e puliti, senza segni di morsi, sangue o altri liquidi biologici e oputrefattivi, si presentavano appaiati e quasi perfettamente allineati tra loro, a differenza di tutti gli altri reperti, dispersi in un'ampia area. Il sandaletto sinistro presentava le due fascette chiuse su se stesse, ma poste al di fuori del passante di guida in metallo, il sandaletto destro presentava ambedue le fascette perfettamente chiuse ed attraversanti i passanti in metallo di guida. Le chiusure in velcro, come è noto, sono molto resistenti alla trazione e quindi un qualsiasi tentativo da parte di animali di asportarli dai piedi avrebbe lasciato i segni dei denti sulla superficie dei sandaletti. Alla luce di tali elementi è indubbio che i sandaletti non siano stati asportati dai piedi del bambino ad opera di animali, bensì ad opera di mani umane, che non potevano che essere che quelle di Viviana, la quale come già detto, è giunta nel bosco di Pizzoturda. La donna si è rifugiata nel bosco di Pizzoturda perché, come già detto, riteneva di dover scattare da inesistenti abrasori o perché temeva che il marito potesse toglierle la potestà genitoriale. Alla luce di tali dati complessivi, due situazioni scenari aptaiono plausibili, in sintonia con quanto sostenuto in sede di autopsia psicologica. Secondo il primo scenario, Viviana, una volta rifugiata assi all'interno del bosco di Pizzoturda con Gioele, ha constatato come il bambino fosse deceduto e dunque, convinta di avere causato con la sua condotta irrazionale tale situazione. In preda a un'insopportabile angoscia, si è tolta la vita. Peraltro, sono già state escluse una serie di possibili cause di morte del bambino, non si può escludere a priori, invece, che Gioele, durante il suo vagare per le campagne assieme alla madre, abbia subito un incidente di tipo traumatico, per esempio, una caduta accidentale, che abbia comportato una possibile lesione ad un organo interno, tale da determinarne, poco tempo dopo, il decesso. Ne si può escludere che Gioele possa aver subito un arresto cardiocircolatorio semplicemente dovuto a faticamento eccessivo, stress emotivo, colpo di calore, sete. Un altro scenario o ricostruzione, però, attare ugualmente possibile, Viviana, una volta giunta nel bosco Pizzoturda insieme a Gioele, ha commesso un figlicidio di tipo psicotico-altruistico, ponendo fine ella stessa alla vita del figlio. Confronta consulenza del professor Picozzi. È comunque altrettanto possibile l'ipotesi di un figlicidio di tipo psicotico-altruistico, seguito da un suicidio, mediante strangolamento o sossocamento. Sintomatico il fatto che l'unico materiale rinvenuto sotto le unghie delle mani di Viviana, indice, medio ed anulare, sia stato proprio il profilo genetico di Gioele. La donna, dopo la morte del piccolo, sia esso dovuto ad un evento accidentale, ma comunque ristretto ai limitati casi sopraindicati, o ad un suo gesto volontario, ha deposto il corpo di Gioele e si è allontanata, alla ricerca del primo luogo utile che le permettesse, in qualche modo, di porre fine alla sua vita, subito dopo incontrando il traliccio dell'alta tensione. In ogni caso ed in definitiva, l'ipotesi dell'infanticidio commesso da Viviana, alla luce dell'indubbio carattere residuale dell'altro scenario prima prospettato, morte di Gioele causata da una mera lesione interna, da un colpo di calore, per sete, ecc., continua a rimanere la tesi più probabile e fondata per questo ufficio. All'esito delle complesse indagini tecniche, è stato emesso il nulla osta al settellimento dei corpi.